La politica e la situazione in casa lega e scontro soprattutto sui social tra chi ha lasciato il carroccio e chi invece è rimasto lega che sebbene sia senza consiglieri potrebbe comunque ottenere un assessorato. Volano gli stracci, è proprio il caso di dirlo nella lega. Da una parte Monica Polina e Giovanni Monti, dall'altra i vertici locali del partito e nella politica 2.0 come accade spesso lo scontro si consuma sui social. Il documento firmato dai due ormai ex leghisti ha sollevato un polverone che coinvolge un po' tutti, non solo il coordinatore locale Luca Sacristani ma anche il presidente del Consiglio regionale Michele Paes, reo di non essere intervenuto in questa delicata situazione. Per ora nessun documento ufficiale da parte del coordinamento locale, solo alcuni commenti al vetriolo e soprattutto l'invito ai tre ex leghisti di dimettersi da consiglieri. Siete stati eletti per la Lega portando avanti idee e progetti, perché non andare via prima di essere eletti? Fate più bella figura di mettervi, ha detto ad esempio Gianni Paes, candidato alle ultime comunali uno dei militanti algheresi più attivi del partito di Salvini. Giovanni Monti invece in una lunga nota ha svelato ulteriori retroscena sul suo addio alla Lega. La mia coerenza politica è stata messa a dura prova fin da subito. Il giorno successivo alla mia elezione sono stato affrontato in modo quantomeno discutibile. La mia libertà, dignità e soprattutto identità personale è stata gravemente lesa da un signore, le cui cariche politiche mi sono ancora ignote. Anziché congratularsi per il mio successo personale e iniziare un percorso politico democratico, mantenendo ognuno il proprio ruolo, si è rivolto a me dichiarando testualmente da oggi tu farai quello che ti dico io. Con tagli premesse, mi è stato subito chiaro che le mie libertà di azione erano nulle, ha scritto Monti. Resta da capire ora che contraccolpi potrà avere il terremoto in casa Lega, se il partito otterrà ugualmente un assessorato, come sembra, oppure se questo gli verrà negato. Di certo, per ora il carroccio è senza consiglieri comunali, anche se più di qualcuno è pronto a scommettere che qualche eletto potrebbe decidere di aderire alla Lega. C'è attesa di conoscere i nomi degli assessori anche nell'agro per una serie di questioni rimaste in sospeso o irrisolte. Sentiamo la Presidente del Comitato Zona Lenurra, Tiziana Lai. Negli scorsi come Comitato Zona Lenurra avete lanciato un appello, oltre a aver fatto gli auguri al nuovo Sindaco e al nuovo Consiglio Comunale, però avete lanciato soprattutto un appello di ricordarsi di un territorio importante come quello vostro. Come abbiamo detto durante la campagna elettorale, abbiamo portato all'attenzione tutti i problemi dell'area della Bonifica. Dobbiamo sempre ricordare a tutti che Alghero non finisce al Ponte di Fertiglia, ti ricordi come avevamo già detto e abbiamo detto e ribadito che l'area della Bonifica deve essere sviluppo, promotore di sviluppo economico di Alghero, perché noi siamo il territorio di Alghero. Quali sono i problemi che più avete segnalato e per i quali attendete risposte? Oltre a ribadire sempre le solite cose, pulizia dei canali, strade, borgate e via dicendo, quello che però noi preme è continuare con i progetti già fatti, quindi mandare avanti i progetti di mondo rurale che sono stati fatti con l'altra amministrazione a cui noi teniamo molto, visto che è un contenitore che abbiamo creato noi. Da quel contenitore nascono i progetti di filiere che abbiamo, ripeto, creato con i cittadini del territorio, con le aziende, ma soprattutto da lì possono nascere tante altre cose, perché la collaborazione con il Parco di Porto Conte secondo noi è motivo di sviluppo economico, questo per noi è fondamentale. Avete avuto modo già di parlare con il nuovo sindaco? Abbiamo avuto modo di parlare sia con Mario, a cui ribadiamo gli auguri, e l'imbocalupo a tutta l'amministrazione nuova, anche all'opposizione naturalmente, che speriamo stia con noi per un'opposizione costruttiva, per portare avanti i progetti stessi che loro hanno portato avanti insieme a noi. Abbiamo ribadito sempre le solite cose, c'è grande disponibilità sia dalla maggioranza, ma anche dall'opposizione, perché ho fatto una chiacchierata con Ornella che ringrazio per la disponibilità per mandare avanti i progetti. Incontro con il sindaco Mario Conoci, ieri sera a Palazzo Civico con Gerard Martì Figheras, segretario generale dello sport della Generalitat de Catalunya, con Luca Bellizzi, delegato in Italia della Generalitat, e Gustavo Navarro, delegato per Alghero. Al centro diversi temi e progetti comuni per lo sviluppo culturale ed economico tra amministrazione e Generalitat, primi discorsi ufficiali in algherese del sindaco di Alghero. Abbiamo programmato attività congiunte tra le due realtà, spiega oltre che iniziative che coinvolgono le società sportive e altri progetti di tipo economico molto importanti che necessitano di organizzazioni particolari che approfondiremo a breve. I rapporti con la Generalitat e con la Catalogna in generale proseguono, ha aggiunto Conoci. L'incontro di ieri con il segretario dello sport è stato molto proficuo ai fini della definizione di appuntamenti di livello internazionale. I rapporti con la Catalogna proseguono e si intensificano sia dal punto di vista culturale, linguistico ma soprattutto economico. A breve sono previsti altri appuntamenti con istituzioni catalane per portare avanti i progetti discussi ieri a Palazzo Civico. E si intensificano i controlli sul territorio alla fine di verificare rispetto delle prescrizioni su modalità di deposito dei rifiuti. Sul campo gli agenti della Polizia Locale, gli uomini della Compagnia Barracellare, controlli effettuati con l'ausilio delle telecamere nei punti critici della città, nell'agro e nelle periferie. Prevenzione che si accompagna rigoroso rispetto delle regole. Interventi che nell'approssimarsi della piena stagione stanno portando risultati importanti per garantire decoro e pulizia. In arrivo sanzioni pesanti per i trasgressori che nei giorni scorsi scaricavano rifiuti incuranti delle regole del senso civico. Il servizio di monitoraggio delle isole ecologiche nel lago è entrato in funzione in tutti i siti affinché coloro i quali trasgrediscono le norme sul conferimento dei rifiuti vengano identificati e sanzionati. Le foto e i filmati a cura della Compagnia Barracellare che ritraggono e ritrarranno i trasgressioni nell'atto di compiere atti illeciti ne consentiranno l'identificazione. Abbiamo il dovere di premiare i comportamenti virtuosi della stragrande maggioranza dei cittadini con la riduzione delle tariffe ma questo obiettivo è messo a rischio dai pochi privati e imprese che invece vanno contro il rispetto delle regole. Sulla raccolta differenziata dobbiamo recuperare le percentuali diminuite in questi mesi in modo che ci consentano di non incorrere in penalità ed anzi ci facciano accedere alle premialità. Per far questo è necessaria la massima collaborazione di tutti e non è giusto che pochi mettano a rischio i buoni comportamenti della maggioranza dei cittadini algheresi, ha commentato il sindaco Mario Conoci. L'obiettivo spiega non è quello solo di punire ma è quello di far crescere il senso civico. Differenziare significa pagare meno e avere meno costi per la raccolta. L'amministrazione sta avviando i controlli anche sulle utenze commerciali, su quelle che ancora non si sono adeguate alla raccolta differenziata porta a porta. Il rinnovato impegno su più fronti da parte dell'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana è stato chiesto e sottolineato più volte dal sindaco Conoci che ringrazia il servizio ambiente del comune e la società Aghero Ambiente sollecitandola però a incrementare comunque l'impegno laddove ci siano ancora alcune carenze. Ci fermiamo ora c'è la pubblicità tra poco. Il comune di Alghero procede alla selezione per conferire l'incarico di comandante categoria D1 del comparto regioni ed unomi e locali di alta specializzazione nel campo della gestione di funzioni di polizia locale. L'incarico sarà conferito dal sindaco di Alghero a conclusione della procedura selettiva. Il possesso di comprovata esperienza professionale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico è desunto dai curricula presentati e dagli eventuali colloqui dai quali emergano conoscenza approfondita della disciplina di funzionamento delle amministrazioni pubbliche della normativa collegata, conoscenze tecnico-specialistiche nelle tematiche, nelle attività e nelle linee di intervento che afferiscono alle funzioni descritte sopra, esperienza di lavoro in posizione almeno direttive, nelle specifiche materie che sono oggetto appunto dell'incarico con particolare riguardo nelle specifiche materie per l'esperienza maturata nella direzione e nella gestione di funzioni di polizia locale, conoscenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il termine della presentazione di questa istanza scadrà il 26 luglio. Tutte le informazioni si possono avere sul sito istituzionale del Comune, servizi ai cittadini, bandi, avvise graduatorie. Ma nei giorni scorsi è stato pubblicato un analogo avviso riguardante il conferimento di due incarichi dirigenziali per ricoprire il ruolo di dirigente di area tecnica nei posti rimasti vacanti. Le competenze tecnico-specialistiche sono richieste nelle materie, nelle attività e nelle linee di intervento che riguardano i servizi tecnici degli enti locali. Il termine per la presentazione delle istanze in questo caso è fissato al 24 di luglio. Anche qui per tutte le informazioni e per il modulo si può visitare il sito istituzionale del Comune di Alghero. Adesso invece ci spostiamo nel vicino Comune di Olmedo perché lo scorso venerdì si è tenuto un incontro presso il centro sociale tra i lavoratori della SMB Olmedo e Aldo Salaris, consigliere regionale dei riformatori sardi. Tema della riunione promosso e organizzata dall'assessore ai lavori pubblici di Olmedo Fabio Pala. Il disegno di legge 17A riguardante gli interventi a favore dei lavoratori della miniera, destinatari di procedura di licenziamento collettivo in stato di disoccupazione. Presenti anche il sindaco Tony Faedda, i segretari territoriali della CISLE, della CGL Luca Velluto e Gianfranco Murtinu e il consigliere comunale Nando Sabiul, doppiamente coinvolto in quanto dipendente della SMB Olmedo. Sono stati esposti i provvedimenti presi, il contributo economico una tantuma compensazione della ridotta rioccupazione successiva alla scadenza degli ammortizzatori sociali, l'impiego nei cantieri del programma Lavoras previsto nell'articolo 2 della regge regionale 1 del 2018 e successive modifiche e integrazioni e provvedimenti di durata sino al 2021. È importante sottolineare l'impegno da parte dell'onorevole Salaris di lavorare subito per trovare soluzioni efficaci e stabili per la fase successiva al 2021, ha sottolineato il sindaco Tony Faedda. Soddisfatti i presenti che si dichiarano a disposizione per giungere all'obiettivo prefissato. Cambiamo decisamente argomento, si è concluso domenica scorsa, 7 luglio, il Cinema Miramare, il Sardegna Film Fest, l'attore Roberto Citran ha ricevuto la menzione speciale per l'interpretazione nel cortometraggio Monclociar di Gianmarco Pezzoli, dalle mani del produttore Gianandrea Pecorelli l'ha ricevuto, un componente della preziosa giuria internazionale formata anche dal direttore dell'ufficio promozione e culturale sia è Danila Alda Confalonieri, già il giornalista marocchino Abdelkarim Oakrim. Il vincitore assoluto del festival è organizzato dal cineclub Sasseri, il miglior cortometraggio della quattordicesima edizione è Mai Tyson di Claudio Casale, già detentore nei giorni scorsi del premio Villanova Monteleone per il miglior documentario italiano. Miglior vetrina Sardegna premio Obus è andato a Clepsidra di Adriana Perra e Roberto Farah, miglior fiction italiana invece a Solstizio d'inverno di Alessandra Prescetta, miglior fiction internazionale a Between the Lines del francese Frederic Farrucci, la medaglia del presidente della Camera premio Scuola Under 18 andata invece a Giustino, uccellino coraggioso di Mena Solipano mentre il premio Diari di Cine Club a Noi Soli di Francesco Alessandro Cogliati. Ovviamente i premi sono stati tantissimi ed è davvero impossibile per noi elencarli tutti, è stata comunque una bella serata che ha visto tra i protagonisti sul palco del Miramare anche gli attori Marini Sen e Paolo Sassanelli. Ed ora vi proponiamo due interviste realizzate in occasione della serata conclusiva proprio a Paolo Sassanelli e Roberto Citra. Il rispetto di portare il cinema nelle carceri parte da Regina Celi, con questa iniziativa a volte unica come è stata quella di portare il mio film all'interno di Regina Celi. Però adesso ci sono altre carceri nel Lazio che mi stanno chiedendo di portare sempre il mio film. Allora a quel punto la rete si sta allargando e io sono molto contento di questo perché poi spero sia una goccia in uno stagno che crea poi tanto movimento, tante onde, quindi tante persone che potrebbero seguire questa cosa. E' chiaro che si vuole arrivare poi in tutte le carceri, anche quelle qui in Sardegna. Cosa che spero tantissimo e spero di esserci io presente qua quando questo accade. Per me è stata un'esperienza come spesso mi accade quando lavoro con esordienti dove cresco anch'io poi alla fine perché devi affrontare un modo magari molto ingenuo e anche fresco di lavorare e ti assumi la responsabilità come faccio. Poi devo dire la verità ho avuto delle gratificazioni che mi fanno un gran piacere come quella di essere qua. E quindi ringrazio Stardine Film Festival per aver mi invitato e chiudo dicendo forza Dynamo. Devo dire che mi è piaciuto molto come hanno giocato, contento per il Poz, contento per la squadra che hanno veramente dato il cuore. Cioè veramente è raro vedere una città attorno a, e anche una regione intera attorno alla squadra. Io ho giocato a Palacanestro anni, tanti anni fa. Era una promessa non mantenuta, quindi continuo a seguirla. Devo dire che ero già contento che avesse vinto uno scudetto qualche anno fa. E sto giro vedevo che la rea era più forte, però un po' ci ho sperato. Comunque forza Dynamo. E quindi la Dynamo porta proprio a sentimento anche gli attori del cinema italiano che non sono assolutamente sardi. Bene così e ci lasciamo. C'è l'ultima pausa per la pubblicità poi torniamo. Ultima parte del nostro telegiornale. Parliamo ancora della serata di sabato, la 19esima edizione del Grand Prix Corallo Città di Alghero, svolto così con successo nel porto. Era presente anche un giovane molto conosciuto per la sua partecipazione a uomini e donne. Si tratta di Mario Serpa che attualmente è testimonia della Givova, uno dei marchi che ha fatto da me in sponsor alla manifestazione organizzata dalla SD Valverde. Lo sentiamo in questa intervista. Qui al Grand Prix Corallo Città di Alghero c'è anche Mario Serpa, conosciuto per la tua partecipazione a uomini e donne, ma qui però al Grand Prix sei come testimonia della Givova che è main sponsor poi oltretutto di questa bella manifestazione. Perché hai deciso di fare il testimonial della Givova? Io collaboro da loro da più di un anno, ho voluto farlo con Givova perché è un'azienda che si sta allargando diciamo in tutto il mondo e poi ho sempre giocato a calcio, loro comunque praticano abbigliamento sportivo dal basket al calcio, comunque è un'azienda importante. E poi sono molto legato a loro perché sia Pina che Giovanni, i patroni, mi amano. Ah beh certo, loro ti amano, tu li ami. Però colleghiamoci a questa cosa, quindi testimonial di questa Givova, di questa marca Givova, i giovani ti seguono tantissimo, forse anche per quello che questa marca ti ha cercato. Tu hai tantissimi followers, come si dice. Sì ho un po' di follower, un po' di follower ma grazie al programma che ho fatto. Quanti ne hai di follower? Quasi 800.000. Tu hai fatto in teoria uomini e donne, io che faccio il TG di CatalanTV ne ho 802.000. Ci credi? Certo che ti credo. Ma stai scherzando? Dopo facciamo una storia allora. Anche due, grazie eh. E di che, grazie a voi. Ognuno ha i suoi follower, quindi anche noi, ma parliamo di rugby giovanile, è un'estate piena di attività per i giovani atleti dell'Alghero Rugby, dopo una lunga e faticosa stagione ricca di gare e test per gli impegni nei vari campionati, le under della società o alle algherese non riescono davvero a star ferme, sotto l'esperta guida del direttore tecnico Roberto Palomba stanno già lavorando per farsi trovare pronte in vista della nuova stagione. Si potrebbe definire una pre-preparazione, un lavoro fisico che ha lo scopo di far arrivare al meglio questi talentuosi giovani ai nastri di partenza della nuova stagione 2019-2020. Ad iniziare sono stati più grandi, ossia le categorie under 14 secondo anno, under 16, e under 18, che stanno facendo seduta in palestra tre volte la settimana, seguiti da Usman Foll, già giocatore dell'amatori rugby al Ghero. L'attività in palestra si alterna con quella sul campo e dalla scorsa settimana anche sulla spiaggia, dove si allenano anche le categorie under 10, 12 e 14 il primo anno, seguite sempre da Roberto Palomba, che qui si avvale anche della collaborazione di Guglielmo Del Rio e Lorenzo Bombaggi, entrambi giocatori algherese in forza alla prima squadra. Inoltre è prevista l'attività sportiva anche all'interno della manifestazione Summer Beach, che inizierà a breve. È importante che i ragazzi si preparino al meglio per le fatiche della stagione, una buona alimentazione, una costante preparazione atletica unita al divertimento dello stare insieme e farlo in un luogo come la spiaggia di Alghero, può solo che giovare a fisico e mente, ha spiegato proprio il direttore tecnico Roberto Palomba. Un'estate di attività fatta bene significa disputare un campionato ai giusti livelli di preparazione fisica, che molto spesso preserva da infortuni e affaticamenti. E il rugby giovanile chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.